ciao sono simonetta sono di roma ho 57 anni fra poco giugno e volevo iniziare a fare questo percorso insieme a gill perché voglio rinascere nel senso è stato un periodo abbastanza duro da prima del covite perché ho avuto una malattia o ancora questa malattia la sclerosi multiplica multipla per cui mi sono depressa ho cominciato a mangiare per per nervosismo poi sono subentrata alla menopausa e volevo ecco rinascere appunto volevo cambiare il mio stile di vita ho una stanchezza cronica che che vorrei mandare via e quindi la vitalità di gill spero che mi dia la forza di tanta carica e io ho bisogno in questo momento di una persona che mi dà carica bentornata a yes i can nuova puntata un nuovo viaggio un nuovo racconto di donne come tutti noi ciao simonetta come stai ciao gill bene grazie dammi 5 dammi 5 dammi 10 dammi tutto stringi le mani ok ti ho detto prima di attaccarci diciamo alla registrata ti ho detto ti sento come se ci avessi un una sorta di incertezza se questo funzionerà sul serio o no perché perché ho provato tante cose e non ho cioè ho fatto un po lo io io come si sol dire no nel senso che riesci a raggiungere un obiettivo poi rientro in depressione e ricomincio a mangiare e mi ringrasso un'altra volta senza di colpa senza di colpa perché mangiamo di più perché dobbiamo punirci esatto e quindi è tutto un cane che si morde la coda come si suol dire fino adesso fino adesso diciamo la donna usa il cibo per punirsi è vero è vero è verissimo e anche per riempire un vuoto un vuoto un colmo ok così io secondo te quali sono i mie consigli che per cambiare la stile di vita non il peso stile di vita uno deve avere la costanza di fare sempre le cose che si è prefisso perché deve avere bene in mente qual è il proprio obiettivo e deve avere anche pazienza nel senso non puoi con uno schiacco di dito di dita cambiare devi avere pazienza e costanza tanta costanza allora io adesso ti chiederò di fare tantissime cose ti chiederò di allenarti tutti i giorni ti chiederò di seguire mai dire dieta scritte con sascia sorrentino che è un nutrizionista biologo nutrizionista e puoi utilizzare dei protocolli integrazioni e trattamenti ok questa ti spaventa perché ci sarà lavoro da fare ti spaventa questo percorso no non mi spaventa perché io comunque per la mia malattia integratori ne prendo tanti e sono abituata a prenderli di diete ne ho fatte tante non chiamiamo la dieta come dici tu chiamiamolo metodo di di nutrizione e di sport anche ne facevo tanto per cui e anche la voglia di mettermi in gioco ce n'è adesso ti darò un bellissimo percorso che ti aiuterà a ritrovare la costanza perché la costanza è quella che ci impegna di più per dare risultati ma parliamo anche di un'altra cosa mi ha detto nel 2016 hai avuto un diagnosi ti puoi spiegare di che cosa si tratta sì allora io nel 2016 ho cominciato ad avere i piedi addormentati inizialmente pensavo fosse una questione di cervicale di di protusioni eccetera perché io ho anche anche quelle e poi dopo questa sensazione di avere i piedi addormentati è salita io sono arrivata ad avere da sotto il seno tutta la parte bassa del mio corpo addormentata e quindi sono stata ricoverata 15 giorni in ospedale e da lì mi hanno dato questa diagnosi di sclerosi multipla diciamo che nel mio nella mia sfortuna ho avuto diciamo la fortuna di avere la forma lieve quella che è solamente una forma sensoriale non ho impedimenti di forza muscolare almeno ancora no perché e comunque mi hanno detto che devo muovermi devo devo allenarmi devo mantenere un certo stile certo stile di vita noi andremo a lavorare su tutto questo e andremo aiutarti simonetta avere a riavere la massima forza e tua vita in mano le redini delle due vite in mano ti va sì molto dici yes I can yes I can siamo qui simonetta sei pronta per il tuo percorso farai now la mia palestra online tutti i giorni ok avrai incomodato d'uso un trampolino ok dobbiamo fare il trampolino almeno tre volte a settimana ok questo è il minimo che dobbiamo fare a settimana e poi seguirai anche altri allenamenti prendi il tuo piccolo sacchetto perché cominciamo a darvi a tutti tutti i protocolli allora innanzitutto mai dire dieta mai dire dieta l'ho scritto con sascia sorrentino e veronica ci bello ci sono ricette è una guida di come mangiare tu sei mela questa prima cosa allora mi stavi dicendo che per i capelli che con diciamo la tua situazione con la sclerosi multipla già avuto un po di problemi medicinali si con le medicinali che hanno creato una caduta di capelli useremo triconel per i capelli regenerate regenerate lo useremo per la pelle ok che aiuta a rigenerare in più a sfodello che è un antibatterico naturale vedremo più luminosità della pelle e lo useremo mattina sera ok tieni vado avanti che ci abbiamo tanti vai avanti con un un bel protocollo ok questo per il metabolismo glicofen ok ci aiuta a stabilizzare la glicemia ci aiuta con la fame e ci aiuta con il metabolismo ok poi noni noni è un adatto genico che ci aiuta per le bilanciamenti ormonali perché mi stavi dicendo che stavi soffrendo di vampate questo è un adatto genico che ci aiuta anche con la forza perché è un antidoloritico naturale riducendo le infiammazioni nel corpo poi abbiamo you balance che è dedicato alle mie amiche che sono in menopausa prendiamo una la mattina una la sera ok per le vampate e anche per i capelli melissa è composta quindi tu mi vedete che non dormi bene dormo male si faccio dei pisolini di mezz'ora e poi dopo mi sveglio ok questa purtroppo incide anche sul nostro metabolismo così melissa è composta la prenderai uno la sera prima di andare a letto nel caso che vedi che non riesci a tenerti addormentato tutta la notte la prenderai due ok va bene poi curcumax altamente titolato in curcuma pipirina e zenzero mi hai detto che stavi già utilizzando una curcuma questa è la più alta concentrazione che al momento potete che puoi trovare sul mercato ok così sospendi quella usi questa va bene per le funzioni epatiche per ridurre le infiammazioni nel corpo e anche aiuta la neurogenesi così diventiamo più intelligenti e poi infine quantares ok quantares il nostro bracciale che è per per la postura per l'equilibrio e con la sclerosi multipla dovrebbe aiutarti molto molto con l'energia ok poi la costanza ce la metterò tutta ce la metterai tutta sei pronta sono pronta aspetta aspetta e ci sarà anche la nuova be good sei pronta mettiamo anche be good che aiuta a drenare tonificare e dare tanta tanta sostegno muscolare sono pronta sei pronta prontissima e ce l'avrai la mia nuova flexi fit che è un nuovo progetto che sto facendo con be good che aiuta non solo non solo a drenare tonificare la pelle però per le donne curvi e così perfetto per tutte le donne va bene sei pronta sono prontissima e lo metterai più tempo possibile va bene ok grazie partiamo questa è la parte più divergente di yes i can di che andiamo a raccontare la fine di un percorso il fine di un percorso alessandra sei tornato Ciao Gil, eccomi qua. Allora, raccontaci che cosa è successo. Allora, vi racconto quella che tu dici, la fine di un percorso, ma per me non è la fine però, per me sì, è la fine dell'inizio del percorso. Allora, io mi sento meglio, mi sento rinata. Allora, grazie alla Melissa composta riesco a dormire la notte come una pupetta, mi sveglio energica, mi sveglio riposata. Però mi hai detto anche un'altra cosa, mi hai detto che un amico in casa sta utilizzando Melissa. È vero, perché quando io sono tornata a casa e ho detto a mio marito, sai Gil mi ha consigliato di assumere la Melissa composta prima di andare a dormire, la voglio anch'io. Ragazzi, anche mio marito se la prende e lui riesce, anche lui aveva problemi di insonnia, dorme anche lui, tant'è che mi ha detto, adesso che vai al negozio di Gil e non tornare a casa senza una nuova scatola di Melissa. Allora, vogliamo dire che noi possiamo anche ispirare o convolgere i nostri, non solo mariti, ma magari fratelli o genitori o papà. Assolutamente. Per trattarsi bene, perché l'uomo è un po' meno attento nel curarsi con l'integrazione, o sbaglio? Sì, è un po' più restio. Io gli ho detto, dico scusa, se posso provare io allora prova anche te, tant'è che io mi sono permessa di consigliargli anche un'altra cosina, la posso dire. E lui sta assumendo il caffè verde la mattina e la garcinia prima di pranzo e ha notato già dei piccoli risultati. Ora si sa che io ve lo sto raccontando, lui è molto timido, introverso, mi ha detto io non voglio venire davanti alle telecamere, io non mi voglio raccontare. Però salta sul trampolino con me e si allena con me. Ragazzi, è una figata pazzesca. Io prima lo facevo da sola, adesso sono in compagnia e si diverte anche lui con Nao. Allora, io ho una cosa molto simpatica. Scusate, è fuori programma. No, non è fuori programma, ma è divertente perché vi facciamo vedere, non solo questo percorso, allora, Alessandra l'ha aiutato sia con il metabolismo, che con il sonno, ma anche con l'allenamento. Andiamo a vedere un po' dei tuoi allenamenti che ci hai condivisi, andiamo a vederli insieme. Ed ecco il mio primo allenamento sul trampolino seguendo una lezione live di Jill con il Thunderbell. Ok, state provando di massaggiare la diaframma, state lavorando proprio a fare di tutto di più per aiutarvi a tonificare l'abdome. Cingolo pelvico, obliquo, tutto. Vado, vado, vado. 15 secondi. Vai, vai, vai. 2, 6. 10, 17. Ancora 7 secondi. 4, 6. che devo dire io sto rilasciando mi sento un'altra mi sento un'altra e mi vedo un'altra viva Jill e viva i suoi consigli ti volgo bene yes I can allora ragazzi quello che stiamo vedendo è un stile di vita allora quando abbiamo visto Alessandra alla prima puntata ci hai parlato di un percorso anche al femminile il fatto che hai dovuto affrontare una cosa importante possiamo dire? assolutamente sì, l'ho detto anch'io ho subito un intervento dieci anni fa di stereotimia alla fine di un percorso particolare dove poi fortunatamente è andato tutto bene però mi sono ritrovata a fare le spese in un'età giovane con un cambiamento importante che devo dire all'inizio mi ha destabilizzato non poco mi sentivo defraudata del mio essere donna a partire dall'intimo ora ho concentrato tutto il mio interesse su me stessa sul ritrovarmi non solo psicologicamente ma anche fisicamente e io mi sento mi sento gioiosa mi sento piena di energia mi sento felice allora andiamo a vedere un po' di foto di te del tuo percorso prima e dopo certo vedendo queste foto vedendo questi cambiamenti quando ti vedi come ti stai cambiando che cosa che cosa ti senti quando vedi questi cambiamenti? allora quando vedo questi cambiamenti vedo vedo un'altra donna vedo un'altra me ho riacquistato il mio essere donna il mio io la mia femminilità per me questo era la cosa fondamentale potrà sembrare poco ma per me per me Gilla è tantissimo perché io rivedo in me una donna la mia femminilità le mie curve la mia possibilità di mettere un vestito più attillato e sentirmi affascinante sentirmi bella in primis per me e poi anche per mio marito allora concludiamo questa parte della nostra puntata di Yes I Can con una Alessandra spumeggiante ma anche una piccola rendicontazione di che cosa ti ha dato questo percorso allora questo percorso mi ha dato dal punto di vista fisico ragazzi io ho perso un chile otto due centimetri sulla vita e tre centimetri nella zona fianchi riesco a dormire mi sveglio riposata ho più energia e affronto la giornata lavorativa con una grinta pazzesca ma quando torno a casa riesco ad allenarmi a salire sul trampolino a fare gli allenamenti funzionali del Prof Giz e mi sono mi sono posta anche l'obiettivo di riuscire a terminare degli allenamenti completi di fluid torno indietro scendi giù i taloni sollevo la destra dopo il tuo alzetto trattieni schiaccia anche la sinistra forse la gamba in avanti abbasso il talone destro ok? mettendomi alla prova con fluid mi è scattato una sorta di sfida con me stessa che però è partita più dal punto di vista psicologico che fisico ossia se io riesco a svegliarmi con più energia perché non provare a fare un allenamento per affrontare la giornata in modo migliore ce la posso fare io ce la voglio fare perché io sento sempre dire che lo sport aiuta a stare meglio quindi se aiuta tanta gente ha aiutato tanta gente perché non deve aiutare me se a tanti fa bene ne deve far bene anche a me Alessandra ce la puoi fare mi sono ripetuta questo nella mente la mattina quando mi alzo spesso e volentieri alle 5-10 di mattina io salgo sul trampolino per 10-15 minuti non ho tempo più di questo però ragazzi io non lo facevo per me era impossibile poter fare quel tipo di allenamento e io mi sono rimessa alla prova e dal punto di vista psicologica mi sento mi sento una bomba mi sento pazzesca carica mi sento piena di energia cioè potrei fare la promoter della felicità ragazzi allora facciamoci in promessa Alessandra grazie per la tua testimonianza grazie tantissimo per il tuo tempo anche tutto l'entusiasmo che hai impegnato in questo percorso e magari fra sei mesi vogliamo rivederci e vedere se riusciamo a mantenere questo sano stile di vita alla Jill Cooper per più tempo perché è normale all'inizio un po' di entusiasmo ma proviamo tra sei mesi ci vediamo tra sei mesi assolutamente sì è una promessa che faccio a me stessa che faccio a te e faccio a tutte le guerriere che mi ascoltano come io prima di me ho ascoltato le altre ragazze di Yes I Can perché Jill Yes We Can Yes We Can ciao ragazze a tutti